Nuova viabilità di collegamento fra la Sarzanese e la via Pisana. L'amministrazione comunale approva il progetto esecutivo e si passa alla fase di affidamento dei lavori. I lavori saranno affidati con procedura negoziata, senza bando, con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, in base al rapporto qualità-prezzo. L'importo complessivo per il completamento dell'opera è di 2.900.000 euro. Per la realizzazione del progetto, avviato dalla scorsa amministrazione, il Comune aveva deciso di procedere all'accensione di un mutuo dalla Cassa Depositi e Prestiti.